Un accordo da mettere nero su bianco prima delle primarie, dopo non avrebbe più senso un'alleanza con l'Udc ex post condizionata dalla figura di candidato che il popolo del centro-sinistra leccese sceglierà a gennaio. Carlo Salvemini mette i puntini su lei, lo fa durante la presentazione del report sul progetto di ripensamento delle strade dei collegamenti verso la periferia, in questo caso in zona rudie. Nessuna chiusura allo scudo crociato, sottolinea massima apertura, purché ci sia a monte un accordo politico puro, indipendente dall'esito delle primarie. L'Udc dovrà allearsi, se vorrà farlo, con il centro-sinistra, anche se dalle primarie del centro-sinistra verrà fuori il candidato Salvemini e non Loredana Capone. Ancora prima, l'Udc può sottoscrivere un accordo politico programmatico a un tavolo comune, al tavolo del centro-sinistra, unendosi a noi, verificando quali sono i punti sui quali eventualmente trovare un'intesa e successivamente, come tutte le altre forze politiche del centro-sinistra che sottoscrivono l'accordo, sostenere chi sarà il candidato sindaco del centro-sinistra. La clausola che nel regolamento vorrebbe inserire il PD invece viaggia in altra direzione, obbligare il vincitore delle consultazioni invernali a valutare, a sua discrezione, ogni allargamento della coalizione al di là dei partiti che hanno prima aderito alle primarie. Sarà questo il fulcro della discussione che martedì animerà il tavolo della coalizione di centro-sinistra, ma i tre nomi, i nastri di partenza, Loredana Capone, Salvemini e Francesco Dagada per l'Italia dei Valori, aspettano anche gli esiti del congresso dell'Udc delle prossime ore. Perché lì sarà prevista anche la presenza del colonnello del PDL Alfredo Mantovano, su invito ovviamente. Invito e presenza però che nel corso del congresso del partito di Casini, nella vicina Brindisi, aveva tirato gli istrali del referente locale del PDL Luigi Vitali. Accadrà lo stesso anche qui? E quanto, soprattutto, l'Udc si riscoprirà più vicino al centro-destra? Certo, peseranno le variabili polibortone a PL, la via solitaria del terzo polo, intanto però si mettono al centro i temi. Salvemini richiama questi. Dopo i lavori di partecipazione dal basso portati avanti da Lecce 2.012, ripensamenti sulla città, più spazi alla mobilità sostenibile, più collegamento con le aree periferiche, elaborati che verranno messi a disposizione della città indipendentemente dalla campagna elettorale. Verranno depositati infatti all'ufficio urbanistica di Palazzo Carafa, perché vengano tenuti in conto in questa fase preliminare di redazione del Pug. Grazie. Grazie. Grazie.